delusi da un sistema fiscale corrotto e inefficiente un gruppo di risparmiatori ha deciso di gestire i propri soldi in maniera autonoma quel gruppo è cresciuto e ti mostrerà come farlo in diretta su youtube unisciti al nostro grido i miei soldi li gestisco io signore e signori buonasera e ben ritrovati nelle sessioni della nostra nuova trading room oggi venerdì 20 maggio in realtà come la settimana scorsa registriamo giovedì 19 maggio per questioni comunque di organizzazione oggi con noi come tutti i venerdì il nostro top trader lorenzo lanari buongiorno lorenzo e benvenuto ciao samuele buongiorno a tutti grazie allora la scaletta di oggi sarà così suddivisa due spread che abbiamo attualmente in macchina andremo a fare una piccola gestione della posizione in essere andando a strutturare quelli che potrebbero essere degli ulteriori ingressi per sistemare il nostro prezzo medio su un butterfly di zv e invece uno spread su ho e andremo poi invece a costruire una nuova posizione sul ct e faremo un discorso invece più legato alle commodity currency e ai tassi di interesse bando alle ciance passiamo subito all'operativo lorenzo a te la parola vai samuele allora l'idea che abbiamo sulle valute in generale e se andiamo un attimo a prendere l'indice delle commodities il cao no quel grafico arrivo subito allora eccoci qua ok allora le commodities in un anno circa sono esplose no molte delle commodity sono più che raddoppiate come prezzo motivazione principale l'inflazione ovviamente e anche soprattutto la guerra in in ucraina per quanto riguarda le commodities agricole le commodities energetiche soprattutto però diciamo che nelle commodities c'è un ciclo di domanda e offerta non cioè si tratta di beni reali sono criptovalute sono neanche indici per cui le dinamiche della domanda dell'offerta prima o poi porteranno in modo fisiologico a un rientro dei prezzi verso la media motivo per il quale noi non operiamo direzionalmente sulle materie prime ma ci muoviamo i spread e proprio con quest'ottica in mente andiamo a gestire alcune delle posizioni che abbiamo in portafoglio la prima è il butterfly su zv dove per il momento la macchina sta battendo l'uomo samuele possiamo dirlo credo e il nostro software l'alfa platinum ha segnalato un ingresso mercoledì a meno 25 e che per il momento è sicuramente migliore di quello che abbiamo fatto noi esseri umani a meno 13 per cui proviamo ad andare a sistemare il prezzo medio piazzando due ordini d'acquisto uno a meno 24 e uno a meno 27 limit good deal canceled quindi buoni fino a cancellazione in modo tale da avere un prezzo medio più vicino ai minimi storici dello spread che negli ultimi anni si aggirano intorno al meno 29 meno 30 da quel livello ci aspettiamo chiaramente una ripartenza pensiamo che il meno 10 meno 8 possa essere la zona di target quindi vediamo se ci eseguiranno bene se non ci eseguiranno pazienza perché comunque sia tornerebbe diciamo in prossimità del punto di pareggio la posizione che già abbiamo in portafoglio stesso discorso è da fare sullo spread che abbiamo in macchina su h o quindi sul gasolio da riscaldamento sappiamo che il periodo che arriva adesso per il gasolio da riscaldamento è stagionalmente sfavorevole no per cui abbiamo un portafoglio un'operazione short cioè vendiamo la gamba più vicina nel tempo gennaio 23 coprendoci con la scadenza successiva siamo dentro a 0.0562 e i massimi storici di questo spread si aggirano intorno a 0.0700 per cui ti chiederei samuele di piazzare un ordine sell limit eccoci qua per un contratto a 0.0670 perfetto e un altro sempre per uno a 0.0720 l'idea qual è operativamente quella di rischiare il meno possibile cioè se dovesse fare una fiammata ci assicuriamo un ingresso a prezzi favorevoli no cioè in prossimità dei massimi storici se dovesse rientrare da qui siamo già a mercato quindi pazienza insomma torneremmo in una posizione di vantaggio con la posizione che abbiamo già portafoglio ma non appesantiamo sicuramente il portafoglio quindi non aumentiamo il rischio aggiungendo altri contratti ai prezzi attuali perché non ne varrebbe sicuramente la pena possiamo andare a vedere già che ci siamo samuele sull'alpha for charts anche il fotone perfetto andiamo subito a costruirlo allora ct 2022 z perfetto meno ct 2023 h giusto esatto quindi in questo caso si tratta della combinazione dicembre 22 marzo 23 anche qua in vendita quindi vendiamo dicembre compriamo marzo 23 se rimaniamo proprio su questo grafico qua ok la si vedevano i prezzi storici dello spread te lo ricreo subito lorenzo scusami grazie no no figurati price continuous e andiamo a vedere come si è comportato nel passato eccoci qua esatto praticamente c'è stato il 2011 2012 in cui lo spread è impazzito ma credo ci fossero dei problemi per quanto riguarda le piantagioni di cotone il comportamento normale dello spread nei restanti 14 anni su 15 è stato che sopra i 5 non è mai arrivato e se vediamo infatti quello che è successo adesso ha provato ad arrivare a 6 ma da lì sta tornando indietro e anche il cotone come singola materia prima ha un filo rallentato quindi riteniamo che un ingresso intorno al prezzo di 5 possa soprattutto con l'approssimarsi della scadenza di luglio che è la scadenza più prossima dei future sul cotone che verso fine giugno insomma possa beneficiare di di un ribasso e quindi portare la nostra posizione in profitto perfetto quindi andiamo a costruire a mettere in macchina un nostro ordine a 5 allora andiamo a costruire insieme alla posizione lorenzo allora ci facciamo un po di spazio e andiamo a selezionare ct come materia prima selezioniamo futures e poi facciamo clic su di più molteplici così possiamo andare a selezionare con il tasto control entrambe le nostre gambe interessate quindi dicembre e marzo poi ci spostiamo su una rega vuota prendiamo lo strumento della combinazione andiamo a spostare qua in mezzo a dicembre spostare qua in mezzo marzo diamogli l'ok ed ecco qua la nostra combinazione costruita noi vogliamo vendere dicembre e comprare marzo quindi andremo a vendere la nostra combinazione quindi andiamo a impostare il nostro ordine di vendita con un contratto esatto facciamo attenzione agli zeri che sulla tvs sono diversi da l'alfa for charts eccolo 0.0 500 perfetto andiamo a vedere anche l'impatto sul margine della nostra posizione vediamo che ha un margine di 1576 euro e andiamo a dare anche un'idea lorenzo se ti va su alfa for charts del unit move e quindi diciamo dell'impatto economico che potrebbe avere anche questo spread intanto sono andato a trasmettere l'ordine andiamo a riprendere il nostro alfa for charts e andiamo a allora un punto sul cotone vale 500 dollari quindi se da 5 lo spread torna a 6 siamo in sofferenza di 500 dollari per intenderci e se da 5 shortiamo e il prezzo arriva a 4 guadagniamo 500 dollari se dovesse tornare intorno ai 6 e noi eventualmente aumenteremmo la posizione dovessimo invece tornare intorno a 3 prenderemmo profitto quindi l'idea è quella di cercare di prendere da 5 un paio di punti di profitto e dovessimo arrivare a 7 eventualmente di stopparci quindi rischiare mille dollari per per contratto diciamo entrando a 5 e poi altri 500 se dovessimo tornare sui massimi perfetto perfetto lorenzo quindi per il momento il nostro ordine short è stato impostato attenderemo che venga eseguito ok io passerei samuel a parlare di monete perfetto facendo un discorso un po più ampio che parte dai tassi di interesse sappiamo che ogni banca centrale che è l'attore che principalmente determina il controvalore della valuta fissa i propri tassi di interesse di riferimento se andiamo qua su investing gratuitamente abbiamo proprio la paginetta di riepilogo dei tassi di interessi fissati da ogni banca centrale quindi vediamo per esempio che quelli della banca centrale svizzera della swiss national bank sono negativi addirittura dello 0 75 per cento la banca centrale europea ai tassi fissati a zero oramai da parecchi anni mentre invece nel resto del mondo questi tassi stanno cominciando ad alzarli ovviamente per cercare di adeguarsi all'inflazione anche se il tasso reale quindi il tasso di differenza fra il tasso di interesse e il tasso di inflazione rimane a favore dell'inflazione rimane negativo perché l'inflazione galoppa intorno al 10 per cento i tassi di interesse nel migliore dei casi sono all'1 per cento tranne nel caso del rublo e del real brasiliano che però non considererei come valute stabili né tantomeno sicure sulle quali investire per cui diciamo facendo riferimento alle majors no quindi da dalla banca centrale europea fino alla banca del giappone vediamo che il tasso massimo è quello della reserve bank of new zealand che all'uno e mezzo per cento e dai tassi di interesse si può passare anche al grafico vediamo un attimino samuele tre tassi teniamo a mente quello dell'euro che a zero quello dell'audì quindi del dollaro australiano che a zero trentacinque e quello della bank of canada che è fissato all'uno per cento cioè alla pari con la federal reserve quindi con il dollaro americano avendo in mente questi tre tassi andiamo a vedere come i tassi di interesse poi si riflettono sulle oscillazioni del valore dei cross forex partiamo dall'euro abbiamo segnato per l'euro contro il dollaro il dollaro australiano contro il dollaro americano e poi il dollaro canadese contro il dollaro americano l'escursione dall'inizio del 2022 al valore minimo o massimo e in corso d'anno sull'euro c'è stata una perdita di quasi il nove per cento sui minimi toccati qualche giorno fa teniamo presente che l'euro è quello con i tassi più bassi sul dollaro australiano dovremmo essere intorno al sei per cento di perdita sui minimi toccati anche qua quattro giorni fa se andiamo a vedere usb cad che è costruito al contrario cioè abbiamo il dollaro questa volta al numeratore del nostro rapporto quindi il dollaro in acquisto e cad in vendita quindi qua il dollaro si è apprezzato nei confronti dei cad siamo andati da inizio anno sui massimi che sono stati toccati qualche giorno fa e ha guadagnato circa il tre per cento quindi vedete come all'aumentare del tasso di interesse della valuta che contrapponiamo al dollaro diminuisca il guadagno che il dollaro ha nei confronti di questa valuta no quindi questo ci aiuta se non altro a percepire la forza relativa del dollaro contro le valute e a poterlo sfruttare con operazioni che preferiamo fare con le opzioni vista la flessibilità dello strumento quindi andrei a prendere le opzioni sul dollaro canadese e consideriamo la stranezza dei futures sulle valute che nel caso del cad quindi dello strumento future che serve per negoziare le opzioni è costruito al contrario del forex cioè abbiamo cad contro usd no quindi se siamo non troppo ribassisti sul dollaro canadese dobbiamo vendere delle put cioè costruito come fosse l'euro dollaro per intenderci con il cad al numeratore prendiamo la scadenza di settembre lorenzo sì che ci permette di negoziare le opzioni che scadono a luglio perfetto tra l'altro se non mi sbaglio proprio l'8 luglio il giorno del mio compleanno andiamo a vedere fatti un bel regalo mettili in portafoglio anche tu scadono il giorno del compleanno eccole qua sono proprio loro infatti scadenza 8 luglio siamo 0.78 sul future sì manteniamoci su un delta inferiore a 20 quindi andiamo sotto lo 0.76 sicuramente sì vediamo che la 0.75 tipo con la 0.74 e mezzo no dobbiamo fare 75 e mezzo con 75 sì allora andiamo come combinazione a delta 4 comunque se sommiamo i delta delle due gambe quindi delta molto basso 75 e mezzo con 75 perfetto andiamo a costruire la nostra posizione qua ho notato un piccolo problema su questa simulata che le devo sempre costruire da qua da strategia altrimenti non me lo fa fare quindi spread su futures no 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 combinazioni sì esatto ok aspettiamo che si carichi allarghiamo un po la finestra per vedere anche la categoria di trading che è in questo caso cao esatto scadenza mensile vendere combo e andiamo a selezionare la nostra scadenza quindi 8 luglio con put strike 0.75 c 75 e mezzo quindi eccola qua con una 75 andiamo a dare l'ok viene creata qua la nostra combinazione quindi andiamo anche a controllare in vendita si vende la 75 e mezzo e si compra ci si protegge con la 75 quindi perfetto andiamo a impostare il nostro ordine si mettiamoci un po meglio del prezzo medio ok quindi metterei un primo prezzo a 8 samuele sono 80 dollari per contratto perfetto e un secondo a 11 ok quindi andiamo a vedere intanto l'impatto sul margine di questo con molto basso del profilo performance abbiamo 170 euro di margine a fronte di un credito di 80 dollari quindi andiamo a trasmettere il nostro primo ordine e andiamo ad impostarne uno ulteriore sempre con scadenza durata gtc e andiamo a mettere lorenzo un 111 ok perfetto e andiamo a trasmettere controllando sempre l'impatto sul margine anche in questo caso 110 dollari di credito e altri 170 euro di margine andiamo a trasmettere in pratica l'idea operativa è quella di sfruttare una possibile pausa del dollaro che si è rafforzato tantissimo nell'ultimo anno però usando la valuta più forte fra tutte le altre considerando anche che sia il cad che il dollaro australiano sono commodity currency cioè sia l'australia che il canada sono forti esportatrici di materie prime in particolar modo per quanto riguarda il canada il petrolio quindi è vero che non ci aspettiamo che il petrolio faccia chissà quali esplosioni ma è anche vero che difficilmente a meno che non risolvano la situazione politica diciamo in ucraina e quindi non si fermi la guerra domani difficilmente il petrolio tornerà a 70 nel giro di pochi giorni o poche settimane per cui non dovrebbe il cad indebolirsi troppo nei confronti delle altre valute in generale e del dollaro in questo caso e quindi andiamo a sfruttare questa combinazione dei fattori cioè il fatto che abbia il tasso di interesse più alto fra le majors dopo il dollaro cioè ha lo stesso tasso di interesse del dollaro in realtà e che sia positivamente correlato alle materie prime in particolar modo al petrolio che è diciamo il mercato più caldo da inizio anno ad oggi ottimo Lorenzo e visto che parliamo di valute ne approfitto anche per riprendere la posizione che avevamo fatto vedere la settimana scorsa siamo andati a chiudere il nostro short sul cfd dell'euro dollaro con 212 dollari di profitto ottimo molto bene direi che per oggi Lorenzo abbiamo finito sì quindi rinnovo a tutti l'invito a ovviamente partecipare anche alle nostre sessioni della nuova trading room in diretta lunedì e mercoledì della settimana prossima e ovviamente riprendere ancora gli episodi registrati del venerdì sempre disponibile all'interno della vostra academy Lorenzo io ti ringrazio per il tuo bellissimo intervento come per ogni venerdì e auguro tutti un buon weekend grazie Samuele ciao a tutti e buon weekend ciao